Buongiorno e vi ringrazio per la presenza oggi. Questa non è nella prima e tantomeno l'ultima conferenza stampa che viene svolta alla Camera sul tema dello spreco alimentare. Credo, lo dico ogni volta, però consentitemi di ripeterlo anche oggi, questo è il posto giusto per presentare ricerche e progetti, perché è la sede in cui la legge 166, la legge volta a recuperare le eccedenze alimentari, farmaceutiche e di altri prodotti, non soltanto è stata approvata per la prima volta nel 2016, ma è stata nel corso del tempo modificata, ampliata, implementata. L'ultima modifica, peraltro, è intervenuta proprio all'interno dei primissimi decreti emergenziali durante la pandemia, quindi con l'estensione delle agevolazioni fiscali e delle disposizioni con le semplificazioni burocratiche che valgono dal 2016 per il cibo e per i farmaci anche a tutti gli altri prodotti, perché come sappiamo le eccedenze si generano in tutta la filiera produttiva e allo stesso tempo i bisogni delle persone e delle famiglie sono stratificati, sono variegati. La povertà alimentare, sicuramente, lo abbiamo visto durante questi mesi difficili, purtroppo lo vediamo tuttora, la povertà alimentare è una realtà nel nostro Paese, se pensiamo a quello che è successo con la chiusura delle scuole. La chiusura delle scuole ha determinato anche la chiusura delle messe scolastiche, per fare un semplice esempio. E chiusura delle messe scolastiche vuol dire per molti minori del nostro Paese una criticità nell'accesso a una dieta sana e equilibrata. E dall'altro lato la pandemia ha messo in luce tante fragilità del nostro sistema produttivo, del nostro sistema agroalimentare, filiere che sono entrate in grande sofferenza e ci siamo accorti tutti quanto tutta la filiera, dal settore primario fino alla distribuzione, alla somministrazione degli alimenti e a tutte le forme che appunto conosciamo nel nostro Paese, dove gli alimenti vengono trasformati, vengono distribuiti e somministrati, quanto queste fasi siano legate tra di loro e quanto siano legate anche alle abitudini di acquisto e di consumo dei cittadini. L'abbiamo visto soprattutto su quei prodotti freschi e freschissimi che durante le prime fasi della pandemia, durante il lockdown, hanno subito tante problematiche. L'abbiamo visto anche rispetto ai prodotti ittici. Pensate quanto quel tipo di produzione sia legato per esempio al settore della ristorazione, al settore dell'oreca. E quindi da questo punto di vista credo sia molto importante oggi parlare di questa ricerca perché come è stato per la legge 166 misurare, capire e comprendere quello che avviene all'interno della filiera produttiva è l'elemento più importante per trovare le soluzioni giuste. La legge antispreco nasce proprio dall'osservazione della realtà, dalle eccedenze che si generano nella filiera produttiva per ragioni non sempre eliminabili e abbiamo visto che la pandemia stessa è stata un fattore esogeno, un fattore esterno che ha influito anche sulla capacità di programmare all'interno delle imprese. La programmazione è un elemento imprescindibile anche per prevenire lo spreco e quando succedono fatti imprevenibili come la pandemia sicuramente poi questi influiscono anche sulle scorte, sui magazzini, sulla capacità di mettere sul mercato alcune tipologie di produzioni. E dall'altro lato durante la pandemia anche rispetto all'altra parte, all'altra faccia della medaglia, del terzo settore, sicuramente i primi mesi sono stati importanti e complicati rispetto a quel modello organizzativo, perché la legge 166 funziona nel momento in cui c'è una perfetta sinergia, una perfetta organizzazione, una perfetta sincronia, lasciatemi dire, tra chi genera le eccedenze per diverse ragioni, quindi la filiera produttiva e distributiva, e dall'altro lato il terzo settore che intercetta quelle eccedenze ridando nuovo valore sociale attraverso appunto la solidarietà sociale. I prodotti possono perdere il valore commerciale per carenza di domanda, per lievi difetti nel packaging, per i motivi più vari, ma possono ritrovare nuovo valore attraverso la donazione. E quindi la legge 166 dal 2016 in poi ha determinato sicuramente attraverso il processo di semplificazione che ha inserito un valore aggiunto, perché ha reso più semplice la vita degli operatori, più semplice e chiara, perché dire chi può fare che cosa e con che responsabilità è l'elemento principale per liberare le donazioni. Però credo sia giusto in questo momento storico capire, proprio per ripartire, cioè siamo in un momento credo importante del nostro Paese, dove iniziamo a vedere la ripartenza, ma questa ripartenza va costruita insieme, va costruita insieme con le imprese, con chi studia, con chi osserva la realtà, in questo caso l'Università Sant'Anna di Pisa, analizzare e conoscere ti consente poi di trovare le soluzioni giuste. Quindi io lascerei innanzitutto la parola al dottor Marco Cosi, responsabile Ultrafresh e localismi Metro Italia. Beh, insomma, l'Ultrafresh è uno dei prodotti chiamati proprio in causa, non soltanto oserei dire durante la pandemia, perché i prodotti freschi e freschissimi, da sempre, nella classifica dei prodotti che rischiano di diventare spreco, sono quelli, insomma, più complessi da un lato da recuperare anche per il terzo settore, e poi hanno quella caratteristica. Il cibo non è tutto uguale, ci sono degli alimenti, ci sono delle produzioni che hanno una vita più breve, che necessitano di condizioni di conservazione, di stoccaggio, diversi, ad esempio, rispetto ai prodotti che hanno il termine minimo di conservazione, la cosiddetta data da consumarsi preferibilmente entro. E ne approfitto per chi ci sta ascoltando, per ribadire ulteriormente questo dettaglio, insomma, non tutti gli alimenti scadono. C'è una grande differenza che i cittadini devono conoscere, perché nessuno decide di sprecare. Certe volte lo si fa, perché non si hanno le informazioni giuste, quindi ci sono dei prodotti che scadono, che hanno la data di scadenza, e il termine entro il quale i prodotti devono essere assolutamente venduti, ma anche consumati, perché il consumo oltre quel termine può comportare un rischio per la salute. E poi c'è una gamma molto ampia di alimenti, pensiamo ai prodotti in scatola, alla pasta, ma anche alcuni prodotti che sono in frigorifero, pensiamo ai salumi, che hanno un'indicazione di consumo di tipo commerciale. E quindi quel prodotto può essere non venduto, ma consumato anche oltre quel termine. Quindi l'informazione corretta è sempre il primo passaggio fondamentale per scegliere la strada giusta e il percorso giusto. E devo dire che Metro Italia è una conoscenza ormai da tanti anni, perché questo progetto metronomo nasce addirittura prima dell'entrata in vigore della legge. Un progetto legato nel suo complesso alla sostenibilità. La legge 166 si inserisce in un percorso in cui possiamo tranquillamente dire che appunto quella legge è la prima legge di economia circolare nel nostro Paese, che prova a dare nuova vita a prodotti che altrimenti l'avrebbero persa. Ma il tema della sostenibilità e dell'economia circolare ha anche delle valenze e delle implicazioni molto più ampie, per esempio sul fronte della prevenzione, per esempio sul fronte delle altre azioni che possono essere implementate per ridurre lo spreco o per dare senso a quella cosa che oggi chiamiamo responsabilità sociale d'impresa, che si attua con tante modalità, con tanti comportamenti diversi che l'azienda può assumere rispetto al posizionamento coi propri clienti. E nel caso di Metro Italia, poi lo sentiremo, i clienti non sono direttamente i cittadini, ma sono quei piccoli imprenditori, piccoli ristoratori, persone che proprio in questi mesi di pandemia hanno davvero sofferto. E che quindi davvero attraverso questa ricerca, ma anche attraverso le indicazioni che da un'azienda più grande come Metro Italia possono arrivare per ottimizzare anche i propri acquisti, le proprie scelte rispetto per esempio alle meravigliose produzioni del nostro Made in Italy, insomma, credo che questa sia la chiusura del cerchio, non l'ultima tappa, ma una delle tappe importanti di un percorso virtuoso che l'azienda ha assunto in questi anni. Quindi lascio la parola al dottor Marco Cosi. Allora, intanto grazie per l'ospitalità, ringrazio l'onorevole Gadda ed è un piacere per me essere qui di nuovo anche col professor Fabio Raldo dell'Università Sant'Anna di Pisa. E' importante parlare di sostenibilità e di spiega alimentare, perché sono parte integrante della nostra corporate social responsibility come azienda. E quando parliamo di cibo, faccio anche i complimenti all'onorevole Gadda per la conoscenza che ha dimostrato poc'anzi nel raccontarci quanto sia importante avere un senso di responsabilità come azienda nei confronti del cibo. Prima di tutto perché il cibo ha un valore etico, perché il cibo è un diritto e come tale non va sprecato. Noi come Metoditalia sentiamo, diciamo, una duplice responsabilità, sia individuale come azienda, tant'è vero che da oramai più di dieci anni collaboriamo con il Banco Alimentare, che si occupa di ritirare e ridistribuire tutte le eccedenze che per forza di cosa un'azienda come la nostra è portata a produrre, sebbene si cerchi di limitarle al massimo, e a ridistribuirle per chi ne ha più bisogno. Ma anche una responsabilità, diciamo, un po' più ampia, considerandoci noi come un elemento importante della catena del valore. Noi siamo tra la produzione e la somministrazione. Ed è chiaro che il ruolo che possiamo svolgere all'interno di questa catena del valore è importante perché possiamo influire enormemente rispetto ad una sensibilità che già vediamo si sta sempre più crescendo verso i temi della sostenibilità. La ricerca che oggi vi proponiamo si inserisce in qualche modo anche all'interno degli obiettivi che la comunità internazionale negli ultimi anni si è posto. se ben ricordate, la comunità europea ha un progetto strategico che si chiama Fun to Fork, quindi dal produttore al consumatore, e come obiettivo ha quello di rendere il sistema aggredimentale sempre più sano e più sostenibile. Non solo, in generale la comunità internazionale sappiamo che entro il 2030 si è posto l'obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare. Questi obiettivi sono molto importanti e dimostrano quanto sia sensibile tutto il sistema in questo momento politico, nazionale e internazionale. In questo scenario, in questo contesto, si inserisce, possiamo inserire la nostra ricerca che prende il nome di spreco alimentare e esperienza dei produttori del Made in Italy durante la pandemia. Questa è una ricerca che è stata prodotta da Metro e dall'Università Sant'Anna di Pisa e attraverso, l'ha già citato, l'onorevole nostro progetto di collaborazione che prende il nome di Metronomo, attivo già dal 2014, che ha l'obiettivo di indagare quali sono stati gli effetti della pandemia all'interno delle aziende produttive italiane e quali siano stati poi le difficoltà che queste aziende hanno incontrato, quali siano state le tipologie di eccedenze con cui hanno avuto a che fare e quali siano state poi le soluzioni che hanno preso in considerazione. Prima di lasciare la parola alla professora Fabiraldo che ci introdurrà e ci spiegherà meglio la pandemia, prendo soltanto un momento per raccontarvi del campione di aziende intervistate. Il campione di aziende intervistate, stiamo parlando di circa poco più di 230 aziende, 233 produttori del Made in Italy, produttori di prodotti locali, sono le eccellenze del nostro territorio, rappresentano il classico tessuto economico italiano, fatto di piccola e media impresa. Pensate che il 60% di queste aziende ha un mercato locale e che arriva anche in altre regioni e il 40% ha semplicemente un mercato di riferimento locale, quindi interno alla propria regione, alle proprie province. Per esempio il 30% di queste aziende ha meno di 10 dipendenti, quindi capite bene quanto, se vogliamo, fragile sia in qualche modo la struttura di queste aziende. Noi come Metro, negli anni abbiamo cercato di instaurare con queste aziende un rapporto, chiamiamolo di partnership, perché al di là del mero inserimento dei prodotti sul mercato, dello scouting del fornitore, la cosa che ci ha importato a più di tutto è quella di creare una visione a 360 gradi con questi operatori, perché siamo fermamente convinti che lavorare bene con queste aziende significa valorizzare il territorio in cui operano, significa valorizzare la feriera corta, valorizzare il chilometro zero e di conseguenza andare incontro anche a quell'idea di sostenibilità ambientale, di riduzione degli sprechi, degli emissioni nell'ambiente, che sono fondamentali e che sono importantissimi in questo momento storico che viviamo. Quello che ci hanno detto le aziende che hanno vissuto questo momento di pandemia importante è che è fondamentale instaurare una relazione e una cooperazione più frequente con tutti gli anelli della catena del valore. Noi abbiamo intensificato tantissimo il dialogo in questo periodo con loro, anche grazie ad un'organizzazione dedicata e focalizzata a questo tipo di aziende. Noi abbiamo un'organizzazione di quattro buyer localism, più addirittura uno dedicato totalmente al vino, con i quali durante la pandemia abbiamo, non dico avuto un confronto giornaliero, ma quasi, perché quello che abbiamo capito è che ridefinire le fasi della logistica, riprendere un po' il discorso sugli ordini, intensificare la relazione, ridefinire i packaging, ridurre a volte anche le porzionature dei prodotti, è stato fondamentale per superare questo momento storico e anche per ridurre naturalmente gli sprechi, perché la domanda che è stata impattata sia dalla pandemia, dalle restrizioni poi che ben conoscete che il governo ha dovuto prendere, ha fatto in modo che naturalmente si è dovuto un po' essere flessibile, lavorare molto sul tema della flessibilità, se vogliamo, della creatività classica italiana nostra. Lascio adesso la parola al professore Iraldo e non rubo più tempo. Grazie. Ringrazio perché effettivamente le politiche di filiera, questa grande parte del dibattito, anche qui in Parlamento, sono fondamentali per rendere le nostre filiere produttive del Made in Italy sempre più strutturate nella consapevolezza che talvolta il nostro Paese vive la frammentazione produttiva e quindi avere delle politiche di lungo respiro che siano in grado di mettere insieme non soltanto la domanda e l'offerta rispetto ai nuovi bisogni che ci sono rispetto all'impatto ambientale, l'impatto sociale, ma soprattutto alle strategie condivise rispetto al posizionamento sul mercato, è davvero fondamentale. Così come fondamentale, lo dico guardando il professor Iraldo dell'Università Sant'Anna di Pisa, che più volte ho incontrato proprio su questi temi, misurare serve per capire quanto è successo. E da un certo punto di vista anche la straordinarietà della pandemia ci deve far comprendere cosa anche rispetto a questi dati rimarrà, perché sicuramente il nostro Paese dal 2016 in poi aveva intrapreso un percorso molto virtuoso rispetto non soltanto al recupero e alla donazione delle eccedenze, ma in generale rispetto al capitolo più ampio della sostenibilità. Noi credo, senza timore di essere smentita, che su questo fronte siamo leader in Europa, sia dal punto di vista normativo, ma anche e soprattutto sul fronte delle buone pratiche. Ma abbiamo visto in questi anni che la legge 166 ha avuto delle grandissime punte di eccellenza in alcuni ambiti della filiera, alcuni sono più complessi, pensiamo alla complessità del settore primario, e molti passi in avanti devono essere fatti dove, ad esempio, non ci sono economie di scala, perché chiaramente è più semplice recuperare presso la grande distribuzione, è più semplice recuperare presso un grande produttore, è più articolato farlo dove ci sono prodotti freschi, freschissimi, dove ci sono gli alimenti cotti, pensate ai ristoranti, piuttosto che alle mense scolastiche, e ovviamente nei piccoli esercizi commerciali, che però rappresentano gran parte della nostra struttura produttiva del Paese. Quindi, col professor Rivaldo, proviamo a capire un po' cosa è successo in questi mesi e faccio anche una domanda. Cosa, secondo lei, rispetto anche a questi dati che sembrano un po' negativi, non rimarrà? Grazie. Io devo intanto ringraziare l'On. Gadda, perché devo dire che sotto la sua egida abbiamo costruito un pochino il percorso che ha segnato anche la storia delle nostre ricerche nell'ambito dello spreco alimentare e della sostenibilità del food, che abbiamo svolto per gran parte nell'ambito dell'osservatorio metronomo, quindi insieme al partner metro, cui vanno anche i nostri ringraziamenti. Uno dei nostri ruoli fondamentali è quello di misurare per trovare risposte. Molte volte queste risposte confermano quello che ci aspettavamo, altre volte riservano delle sorprese. E le sorprese ci inducono a pensare appunto che cosa sia il caso di costruire per poter ulteriormente rispondere a delle tendenze che magari non vanno esattamente nella linea di tendenza che ci aspettavamo. Noi abbiamo voluto fare questo proprio in seguito all'emergenza pandemica, nel senso che noi avevamo già in mente non solo di studiare lo spreco alimentare, ma di spostare il focus progressivamente dai consumatori e dagli esercizi commerciali del settore e ORECA che abbiamo studiato negli anni precedenti alla filiera di produzione, dove non dimentichiamo ce lo stanno le percentuali principali in termini quantitativi di spreco. E quindi volevamo già indagare, investigare quali fossero i driver principali. Poi è accaduto quello che sappiamo e allora a questo punto ci siamo interrogati in modo ancora più complicato per poter comprendere le tendenze, su che cosa la pandemia abbia cambiato, su quali fenomeni abbia accentuato e su quali dinamiche invece, che sappiamo non essere completamente positive, abbia agito esacerbando un pochino delle difficoltà che noi già sapevamo essere proprie di alcune filiere soprattutto. Allora, intanto le conferme molto banali. L'impatto principale della pandemia è stato naturalmente sui volumi di vendita. L'indagine ci conferma che l'impatto è stato paradossalmente positivo per la GDO, ma sappiamo a causa di quale fenomeno evidentemente, l'apertura e anche il ruolo, se vogliamo, in qualche modo a servizio della collettività dei punti vendita della GDO, ma invece su tutti quei canali distributivi, incluso effettivamente cash and service oppure comunque quei grossisti che servivano i ristoranti, si è sentito invece un impatto negativo forte derivante dalle chiusure. Questo è assolutamente evidente poi anche quando andremo a vedere le tipologie di prodotti su cui le ripercussioni sono state più significative. Come vedete, sui negozi di alimentari c'è un calo evidentemente, ma sembra reggere l'impatto, mentre lo vediamo sulle mense che citava l'onorevole Gadda prima e soprattutto sui ristoranti e bar c'è il crollo che tutti potevamo immaginarsi. La nostra domanda principale, la research question per questo studio è stata come queste dinamiche hanno impattato le scelte dei produttori con tutti gli influssi che derivavano dalla filiera a valle condizionato da quello che stava accadendo. Allora andiamo a vedere intanto come le misure restrittive hanno impattato sulla filiera. Il principale impatto, lo vedete, di gran lunga peggiore rispetto agli altri, in termini già qui anche di gestione della produzione, dei flussi di rifornimento del settore a valle e quindi anche di tutta la dinamica delle scorte, importantissima per il settore alimentare, lo vedete, è legato alla discontinuità delle aperture e della chiusura. Le incertezze nella pianificazione della produzione sono stati l'elemento sicuramente più devastante dal punto di vista degli impatti che venivano generati e come vedremo anche sulla generazione dello spreco. Meno hanno inciso quello che in realtà io stesso come osservatore mi sarei aspettato all'inizio, cioè il limitato accesso alle loro forniture, cioè alle forniture che derivavano dal campo, dagli allevamenti, in talunni casi anche da ulteriori fornitori che stavano anche in altre parti d'Italia. In realtà su questo ha inciso abbastanza, ma non tantissimo, lo vedete dal grafico, così come ha inciso, ma non troppo, la perdita di prodotti stagionali che non sono stati raccolti o lavorati, perché da questo punto di vista si è arrivati, par di capire, alla fase di trasformazione. Quello che c'era da raccogliere è stato comunque raccolto. Ed infatti poi vediamo che gli sprechi stanno un pochino più a valle. Per quanto riguarda i settori più impattati, come ci si poteva aspettare, anche questa è una conferma quasi in linea logica di quel che è accaduto, le principali impattate sono le bevande, ma soprattutto a causa delle chiusure dei bar, evidentemente dove c'è il più largo consumo di bevande. Come vedremo questo non ha un impatto così significativo sullo spreco, cioè sono diminuiti i volumi, ma le bevande hanno un tempo di conservazione molto lungo e quindi non ha impattato molto sullo spreco. Mentre invece, vedete, subito dopo arriva il settore fresh, soprattutto frutta e verdura, che anche dal punto di vista dello spreco, come vedrete, ha avuto in realtà un impatto molto significativo. Seguono gli altri, vedete comunque, evidentemente i freschi hanno un impatto più rilevante di altri. Una delle cose che ci ha interessato di più era però, come diceva l'onorevole Gadda molto bene prima, quali sono le scelte che i produttori hanno dovuto fare per adeguarsi alla situazione, che possono dare un indizio anche di quanto potrebbe cambiare strutturalmente. Nel senso che lo sappiamo, il periodo non è stato breve della emergenza, perdura in alcuni casi ancora oggi, come strascico evidentemente, e speriamo non torni, e quindi ci sono state delle modifiche che potrebbero essere strutturali. Quindi potrebbe essere che qualcosa di questo rimanga e a noi potrebbe, diciamo, far piacere che rimanga, perché ha un impatto positivo sulla riduzione dello spreco, mentre altri potrebbero rimanere altri fenomeni e questo potrebbe non essere positivo. Vediamo quindi cosa hanno fatto i produttori. In primo luogo hanno dovuto far fronte a una maggiore richiesta di prodotti confezionati. Questo è, diciamo, naturale nelle fasi di emergenza, dove appunto chi compra fa incetta di prodotti a lunga conservazione, tra virgolette. Devo dire che questo sullo spreco non ha un effetto negativo, perché paradossalmente se non fosse che i prodotti freschi appunto hanno certe caratteristiche di qualità, che li fanno risultare migliori, in realtà il prodotto confezionato di per sé, dà margini maggiori di conservazione e quindi di decidere il momento in cui consumarlo. Dal punto di vista dello spreco non è negativo. Attenzione, qui si presenta un primo trade-off tra spreco alimentare e impatto ambientale, che poi vedremo anche nel caso del packaging, nel senso che i prodotti conservati sono più lavorati, hanno per esempio additivi eccetera, e questo li fa impattare di più sull'ambiente. Quindi c'è un trade-off di cui bisogna tenere conto, da cui l'esigenza appunto è che si sviluppino metodi di conservazione che siano a minore impatto ambientale, cosa su cui le filiere stanno già lavorando molto. Secondo, evidentemente, maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti, perché questi possono essere veicoli di trasmissione, soprattutto per quanto riguarda il packaging, e poi nei periodi così di crisi la salute del consumatore balza immediatamente ai primi posti, quindi occupa un livello di priorità alto nelle preoccupazioni di chi compra. Terzo elemento, anche qui di duplice lettura, la riduzione dei formati. La riduzione dei formati va da un punto di vista, diciamo, dello spreco bene perché consente di conservare anche qui di più. Se io ho una porzione più piccola posso consumare le porzioni ad un lasso di tempo diverso, soprattutto appunto se sono porzionate in modo da essere consumate con un leg. Però attenzione, la riduzione dei formati anche qui vuol dire più packaging per unità di prodotto. E quindi anche qui scatta l'esigenza, come diceva prima l'onero regadda, di pensare ad un futuro in cui i packaging, se si riducono le porzioni, devono necessariamente impattare meno sull'ambiente. Devono essere capaci di conservare il cibo, anche ridotto in quantità, per poi però impattare comunque in modo contenuto sugli ecosistemi naturali. Il quarto elemento invece è molto confortante, perché dice una cosa che noi stiamo vedendo tanto anche nei consumatori, ed è bello trovarlo anche nelle imprese che producono, perché matcha molto bene con una sensibilità ambientale e per i temi della sostenibilità, che nel periodo della pandemia è aumentata visibilmente. Quindi il fatto che gli intervistati dicono al quarto posto che è aumentata nella pandemia l'attenzione ai temi della sostenibilità, del packaging, che non c'entra assolutamente, è il primo tema che non è conseguenza della pandemia, almeno ragionevolmente diretta dalle dinamiche di mercato che si sono causate, dice molto di quanto stia aumentando di importanza il tema della sostenibilità, di cui lo spreco alimentare evidentemente è un pilastro assoluto. Poi seguono altri temi, diciamo, meno rilevanti. Che cosa è accaduto quindi come effetto della pandemia, come interventi? Il primo intervento di gran lunga superiore è l'ottimizzazione del packaging, però attenzione, ottimizzazione del packaging vuol dire anche ridurre, per esempio, il peso del packaging per le diverse porzioni, non vuol dire soltanto porzionare il cibo in modo diverso. Il secondo, la seconda risposta al 28% dei produttori dice abbiamo creato nuovi formati con minore quantità di prodotto, e questo ha la duplice chiave di lettura, che potrebbe essere preoccupante, che dicevamo prima, ma sicuramente sul spreco alimentare ha un'azione benefica, e la terza torna ad essere l'adozione di formati di packaging e di materiali, soprattutto di packaging, sempre più a disposizione oggi, che hanno un impatto minore sull'ambiente o sono più sostenibili. E da questo punto di vista si intravede già una via d'uscita per un cambiamento strutturale che potrebbe condizionare le dinamiche del settore, ma che possiamo riuscire a, diciamo, reindirizzare positivamente. Dico ancora una cosa sul quarto, perché è molto interessante e non è tanto legato alla pandemia, che è una migliore leggibilità dell'etichetta. Tenete conto che i consumatori e i produttori cominciano a capirlo, vogliono molte informazioni su quello che consumano, tra queste informazioni sull'etichetta comincia a comparire anche, sempre di più in misura crescente, una serie di informazioni che riguardano come consumare il prodotto in modo corretto per evitare lo spreco, e anche come consumare o conservare il prodotto per limitare i suoi impatti sull'ambiente. Quindi temi legati alla leggibilità delle informazioni sul prodotto che sono assolutamente positive. Vado a chiudere con un tema, diciamo, molto sensibile, su cui avevamo già indagato in passato per quanto riguarda gli esercizi oreca e i consumatori. Avevamo chiesto quanto lo spreco alimentare fosse un tema sentito e perché fosse ritenuto importante. Sia i consumatori che i gestori di bar, ristoranti, eccetera, hotel, ci avevano detto la stessa cosa che ci dicono i produttori. Quindi c'è una comunità di intenti lungo la filiera che è un fattore assolutamente positivo su cui si potrebbe costruire molte delle azioni che potrebbero integrare e attuare ancora di più quello che già è a disposizione delle aziende. Tutti lo percepiscono come importante, la gran parte lega lo spreco alimentare ad un tema di sostenibilità ambientale e quindi anche di riduzione dei rifiuti, in questo caso di spreco. Qui arriva la notizia che ci aspettavamo, è una conferma, ma non è positiva. E cioè che la pandemia ha chiaramente inciso in modo negativo sullo spreco. Nel senso che per un produttore su quattro, un produttore su quattro, cioè il 26%, ha visto aumentare la quantità di spreco nelle fasi di trasformazione e di produzione dei prodotti alimentari a causa della pandemia. E questo non è una buona notizia, anche perché il 44% di essi l'ha visto aumentare in modo significativo, fino al 15%. Quindi stiamo parlando di qualcosa che sballa i parametri di controllo sulla produzione normale. Quindi è un evento sicuramente straordinario che però rappresenta uno shock da questo punto di vista e che va sicuramente assorbito. Tra questi naturalmente ci sono categorie che hanno registrato sprechi in misura più significativa di altri. Vediamo la frutta e verdura, per esempio, vedete l'incremento dello spreco è dato dalla fascia più azzurra in basso, quindi è l'ultima, quella che parte dall'asse delle ordinate. Per i frutta e verdura ovviamente 41,49%, perché è un prodotto fresco e le scorte purtroppo non durano. Mentre per le bevande vedete che era uno dei settori che aveva avuto impatto in termini di vendite, ma non tanto in termini di spreco. Per quanto riguarda le fasi su cui la pandemia ha causato maggiori ripercussioni in termini di aumento dello spreco, ragionevolmente queste si concentrano nello stoccaggio, quindi nelle scorte che vengono stoccate per un periodo di tempo eccessivo rispetto alla durata del prodotto e quindi alle scadenze a causa dello shortage degli ordini che provenivano dai settori a valle, soprattutto per chi serviva al settore oreca, e poi i prodotti invenduti in generale, questo ha riguardato chiaramente tutti i settori che hanno subito impatti significativi dalla pandemia. Ultimissima cosa, quali sono le misure antispreco che sono state messe in atto da parte dei produttori prima o durante la pandemia e quindi che possono rappresentare un trampolino per il futuro, per poter lavorare ad aumentare questo tipo di indicazioni. Anche qui indicazioni non troppo positive che lasciano campo aperto a tantissime possibili iniziative. Quella che mi ha, devo dire, sorpreso di più è il fatto, per esempio, che i produttori prima della pandemia e durante la pandemia non abbiano ancora deciso di fare ricorso massivo come in realtà meriterebbe si facesse ai cosiddetti mercati secondari, cioè per piazzare il prodotto magari vicino a scadenza o comunque non richiesto dal mercato attraverso i sistemi delle app o altri sistemi di tracciabilità. Questo è un vero peccato. Avrei scommesso che la pandemia avrebbe generato questo tipo di attenzione, forse siamo di fronte ancora a una filiera non pronta per questo tipo di sollecitazioni, effettivamente dovremmo lavorarci. Poi ci sono delle altre misure che invece vanno nella direzione che dicevamo. Da un lato volumi ridotti e quindi porzioni anche più piccole, dall'altro soluzioni per accrescere la durabilità del prodotto. A me questo interessa non tanto perché evidentemente si auspichi un passaggio ai prodotti conservati, perché nessuno lo auspica, soprattutto nella patria appunto dell'alimentazione mediterranea con elevata qualità, soprattutto dei prodotti freschi. Ma soluzioni, pensate a per esempio soluzioni con tecnologie innovative che consentano di conservare il fresco di più e quindi un margine di flessibilità per poterlo offrire sul mercato ancora con le sue caratteristiche qualitative inalterate. Chiudo davvero perché questa è l'ultima slide. Quali azioni sono ritenute più utili dai produttori per migliorare ancora di più la tendenza a ridurre lo spreco e le loro capacità ad agire, quasi il 50% dice sistemi per ottimizzare lo stoccaggio dei prodotti. Qui veramente la lean production, cioè la capacità di rispondere agli ordinativi con tempestività e quindi con flessibilità riuscire a gestirne i quantitativi in relazione a shock come quello pandemico potrebbe essere assolutamente premiante. Ancora una volta vedo l'utilizzo delle nuove tecnologie per fare queste cose. La seconda è progetti per la valorizzazione degli scarti nella filiera del food e qui diciamo regna imperante la legge Gadda su cui dovrebbero probabilmente anche loro riuscire a fare passi successivi. Forse chiedono strumenti più praticabili, più attuativi, più a disposizione anche della filiera di produzione oltre che di quella di consumo e poi iniziative più soft come per esempio quelle di formazione. Torna in realtà al 39% quindi con una significativa percentuale al quarto posto la donazione delle eccedenze anche per quanto riguarda i settori della produzione cosa che in realtà è già diciamo disponibile oggi ma che i produttori chiedono di poter avere ancora di più in termini di strumenti utili o azioni di supporto soprattutto per quanto riguarda quelle aziende delle filiere che sono piccole e quindi non hanno le risorse per potersi orientare per poter sviluppare soluzioni che siano efficaci da questo punto di vista. Questo è un po' il quadro rimaniamo a disposizione ovviamente per domande specifiche. Prima di aprire le domande vi vorrei ringraziare per questa vostra ricerca e anche per questa esposizione perché dalla politica ha diverse indicazioni anche alcune osservazioni che il professor Iraldo ha fatto ci dicono se stiamo andando o no nella direzione giusta rispetto ad alcune scelte. Il tema legato alla digitalizzazione non a caso lo dico osservando entrambi è la prima missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e questa è un'opportunità molto rilevante anche per quel commercio di prossimità piuttosto che per i piccoli produttori dell'eccellenza dei Made in Italy che fino ad oggi salvo appunto alcune esperienze molto puntuali pionieristiche non hanno intercettato ad esempio la sfida della digitalizzazione e allo stesso modo guardando indietro ai mesi della pandemia ritrovo in questi numeri credo la correttezza di alcune scelte fatte per esempio dal Ministero dell'Agricoltura non a caso in questi mesi il fondo cosiddetto indigenti quello legato ai ritiri dal mercato dei prodotti non soltanto dell'ortofrutta ma durante la pandemia è stato esteso anche i prodotti ittici per esempio rispecchia proprio quella necessità di trovare una destinazione in questo caso con la solidarietà sociale anche attraverso appunto ritiri dal mercato oppure forme di aiuto in termine economico allo stoccaggio privato noi abbiamo avuto in questi mesi settori che mai prima di oggi avevano necessitato dell'intervento pubblico del sostegno pubblico pensiamo a un settore che è stato citato prima che è quello vitivinicolo piuttosto che alcune scelte che non credo saranno strutturali però poi le abitudini di acquisto di consumo dei cittadini certe volte quando perdurano nel tempo possono anche rimanere però immaginate quello che è successo all'inizio della pandemia rispetto al tema del latte noi avevamo delle buone produzioni di latte fresco il latte fresco è tradizionalmente di origine italiana perché questo è dettato insomma dai tempi della produzione e della distribuzione la chiusura dell'oreca che è uno degli ambiti di maggiore destinazione del prodotto fresco pensato insomma ai bar ha determinato un cambiamento uno spostamento verso il prodotto a lunga conservazione che non è detto che sia sempre di origine italiana e questo ha determinato sui nostri produttori del Made in Italy soprattutto nel nord Italia delle grandissime eccedenze di latte e quindi anche le implicazioni nella filiera rispetto anche al posizionamento sul mercato sul prezzo e quindi poi l'onda lunga di questa pandemia credo che nelle nostre diverse filiere la vedremo anche nei prossimi mesi perché poi appunto ci sono dei settori trainanti anche all'estero del nostro Made in Italy ribadisco il settore vitivinicolo dove sicuramente l'impatto può essere doppiamente reso negativo dalla perdita di quote di mercato anche nei mercati internazionali quindi sicuramente con le nostre imprese e anche e anche insomma con l'aiuto di chi osserva la realtà è fondamentale anche capire come guidare questo percorso e diciamo che mi porto a casa questi dati anche come come legislatore perché siamo anche nel luogo in cui queste scelte devono essere fatte per sostenere le nostre produzioni quindi io chiuderei questa prima parte vorrei aprire eventualmente a domande al dibattito se ci sono curiosità da parte dei presenti è possibile prenotarsi con il microfono visto che non parla nessuno vorrei dire un paio di cose io sono Agostino Macri e sono dell'Unione Nazionale Consumatori c'è un passato all'Istituto Superiore di Sanità ma insomma comunque mi interessa molto di problemi di carattere sanitario un'osservazione sugli effetti sulla produzione primaria forse è sfuggita quindi prima parlava di latte il fatto che la chiusura dei fast food ha creato dei grossi problemi nella produzione nelle nella produzione delle vacche da latte perché sapete che le vacche vecchie diventano hamburger e quindi non avendo più la possibilità diciamo questo sbocco delle vacche vecchie gli allevatori sono trovati con un certo numero di vacche in più che dovevano sfamare e che erano scarsamente produttive produttive del tutto quindi questo è stato un effetto proprio tipico però quello che a me sembra che l'impianto della legge è tutto quanto fatto bene quello che avrei qualche perplessità è sulla fase successiva cioè quando dall'azienda dal supermercato insomma dall'azienda alimentare questi prodotti vanno a chi li raccoglie e poi vengono distribuiti ai cittadini che ne hanno bisogno per esperienza diretta ho visto che c'è una burocrazia piuttosto pesante e poi arrivano a chi io mi sono trovato a dover distribuire questi prodotti che ho preso appunto da questi enti che raccoglievano questi prodotti mi sono ritrovato con una montagna di cioccolato cioccolato oppure tipo quelle confezioni natalizie dei cioccolati quella quantità enorme che non sapevo a chi darle perché non c'è insomma non possiamo dare soltanto cioccolato alle persone che hanno bisogno quindi ci siamo attrezzati abbiamo integrato abbiamo dato comunque però ecco c'è questo e poi una burocrazia che mi sembra anche abbastanza pesante nel trasferimento dei prodotti dal diciamo banco alimentare tanto per citarne uno a chi poi realmente distribuisce i prodotti insomma c'è una filiera molto farraginosa successivamente e questa io penso non so se sia possibile farlo per via per via però è veramente farraginosa vi assicuro che chi ci si impegna trova veramente delle difficoltà e ovviamente poi l'ultima cosa è cercare di spiegare ai cittadini le date di scadenza io mi sono visto rifiutare dei prodotti dei prodotti scatola perché da consumare preferibilmente entro anche se questo entro era tra un mese la gente non li voleva quindi ecco su questo effettivamente bisogna insistere su questa opera di persuasione ai cittadini che ovviamente c'è dei riflessi positivi anche per i supermercati per le grandi distribuzioni scusate se non è stato un po' lungo però queste domande le volevo fare ecco se posso la legge nasce proprio per semplificare la burocrazia perché onestamente l'unico documento che serve per garantire la tracciabilità perché la responsabilità credo sia necessario garantirla nel momento in cui va garantita sia a chi dona ma anche a chi riceve perché al centro della legge c'è la dignità della persona quindi la tracciabilità rispetto a chi dona le cedenze capire come vengono poi gestite all'interno anche della filiera del dono è fondamentale ma la tracciabilità secondo la legge 166 poi magari la sua domanda è utile perché forse conviene sempre spiegare cosa contiene un provvedimento legislativo che ha risolto il tema che lei diceva della burocrazia perché serve soltanto il documento di trasporto quindi da quel punto di vista credo che è un documento semplice nell'impostazione nella gestione che garantisce quel tipo di tracciabilità ma anche garantisce di agganciare su quel documento le agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e indirette che la legge 166 porta poi credo che in generale mi permetto di darlo come suggerimento la legge 166 chiede due cose di specializzarsi ognuno faccia il suo e di fare progetti di rete ecco io credo che sia fondamentale ad esempio nel caso di un'associazione di consumatori lavorare molto sul tema dell'educazione sul tema della formazione la lettura delle etichette è fondamentale oggi perché l'etichetta indica l'origine del prodotto le modalità di conservazione le date di scadenza la storia del prodotto stesso oltre alle diverse indicazioni che servono anche rispetto al tema della salubrità gli allergeni insomma ci sono una serie di indicazioni in etichetta quindi credo che un'associazione come la vostra possa essere fondamentale anche per ribadire l'importanza di questi concetti poi però il recupero la donazione delle eccedenze credo sia importante farla fare a chi ha la struttura organizzativa per farla non riguarda soltanto i grandi soggetti come il banco alimentare credo che nel nostro paese abbiamo un'esperienza di migliaia di enti che nelle loro diverse forme si sono specializzati nel recuperare prodotti a lunga conservazione il cibo cotto il prodotto dei mercati generali il cibo non è tutto uguale non ha lo stesso grado di recuperabilità e presuppone modelli organizzativi anche nel mondo del terzo settore molto specializzati quindi io credo che la soluzione migliore sia quella di talvolta essere da facilitatori ma avere la struttura organizzativa per fare le cose io quello che ho imparato in questi anni che inventarsi spinti dalla buona volontà non sempre aiuta quindi da questo punto di vista credo sia fondamentale invece essere talvolta i promotori di progetti di rete dove abbiamo dei soggetti che hanno magazzini beni mobili strumentali quindi frigoriferi mezzi adeguati perché se si voglia recuperare alcune tipologie di prodotti bisogna avere quel tipo di responsabilità e questo non perché il legislatore è come dire particolarmente particolarmente insomma aggressivo nell'imporre di fare qualcosa ma proprio per la finalità del recupero che è quella appunto di rispondere a un bisogno sociale e quindi in realtà insomma la legge 166 come unico documento chiede il documento di trasporto quindi non so che altri documenti le siano capitati potrebbe essere che grandi enti del terzo settore possano chiedere al soggetto a cui donano in una filiera di responsabilità le cedenze da distribuire agli indicenti un rapporto di collaborazione particolare ma quello è legato alle relazioni che ci sono tra soggetti diversi nella filiera insomma un patto che può esserci tra soggetti diversi che devono essere allineati tutti sulle stesse competenze sullo stesso modello organizzativo però diciamo che vorrei che fosse lasciato agli atti che non ci sono adiempimenti ulteriori proprio perché li ha tolti la legge 166 prima c'era da fare la dichiarazione preventiva cinque giorni prima la legge prevede che non debba essere fatto altro per donazioni singole cessioni fino a 15.000 euro insomma la gran parte delle donazioni salvo appunto i casi dei grandi donatori delle grandi imprese di produzione piuttosto che delle grandi imprese della distribuzione organizzata raramente come dire fanno singole cessioni quotidiane superiori ai 15.000 euro insomma quindi tutto il resto del mondo che direi che il 99% deve fare soltanto documento di trasporto o documenti equipollenti insomma quindi è sempre utile ricordarlo se posso aggiungere invece sul tema del consumatore della sua sensibilizzazione rispetto al tema delle scadenze volevo sottolineare allora secondo me invece questa argomentazione qui è assolutamente centrata è un'esigenza molto sentita da tutti gli operatori della filiera perché è evidente che c'è un pregiudizio da parte del consumatore quando vede il claim da consumarsi preferibilmente segnalo che la commissione europea ne ha fatto una priorità di intervento anche in termini di cambiamento del modo di esprimere perché è chiaro che la preferenza è legata alla qualità cioè al mantenimento di quelle caratteristiche che lasciano integro le qualità diciamo gustative eccetera organolettiche del prodotto ma può essere consumato anche dopo secondo segnalo che un mesetto fa abbiamo presentato la carta del consumo circolare che hanno firmato tutte le associazioni di consumatori anche voi credo sono quasi sicuro vero in cui c'è una serie di principi l'ultimo di questi principi è proprio sullo spreco alimentare e lì c'è un impegno forte di tutte le associazioni di consumatori insieme anche al sistema diciamo educativo e anche alle imprese che vorranno aderire a questa carta tra l'altro la segnalerò poi anche a metro di informare correttamente il consumatore e sensibilizzarlo in modo da superare il pregiudizio e garantire appunto che quel fenomeno di vicinanza alla scadenza sui prodotti soprattutto alcune categorie di prodotto venga definitivamente dimenticato perché altrimenti è vero è molto difficile riuscire a prolungare la vita utile dei prodotti sì è un pregiudizio che va superato anche perché non deve mai passare il concetto tale per cui il prodotto recuperato e denato che per esempio ha superato preferibilmente entro sia destinato a chi quel prodotto non lo può acquistare la legge 166 che include anche degli articoli che riguardano appunto la data di scadenza e il TMC riporta questo dibattito sul binario della normalità tutti possono consumare a casa propria i prodotti che hanno superato il preferibilmente entro quindi questo concetto non deve invece portare a far immaginare qualcuno che chi riceve i prodotti in donazione riceva gli scarti della società la legge 166 non parla di spreco alimentare parla di recupero delle eccedenze che per diverse ragioni lo ripeto perdono il valore commerciale pensate ai prodotti che non possono essere vendibili singolarmente lo scatolame cadono le tre confezioni se ne danneggia una le altre due no quelle due confezioni sono perfette perfettamente consumabili non hanno alcun vizio nemmeno difetti nell'imballaggio secondario eppure perdono valore commerciale perché non possono essere vendute singolarmente quindi la legge inserisce un principio credo di buon senso ma che doveva essere scritto in modo preciso tale per cui un conto è la vendita un conto è ridare valore attraverso la solidarietà ma se questo poi il cittadino che riceve quei beni non lo comprende non gli viene spiegato pensa di ricevere lo scarto della società non è così la legge 166 è una legge dove poi l'abbiamo anche visto in questi mesi di pandemia tutti noi possiamo essere fragili in un momento della nostra vita soli siamo stati anche soli durante questi mesi di pandemia eppure eppure questa legge dice mettiamo insieme i due bisogni quello delle imprese che hanno dei beni in eccedenza che non possono più vendere o che non vogliono più vendere perché li vogliono donare quante donazioni ci sono state in questi mesi perché si voleva fare la propria parte durante la pandemia io credo da questa sala che sia giusto dire che le istituzioni anche attraverso agevolazioni fiscali anche queste scelte le debbano sempre premiare perché la società va avanti così insomma scusate una breve replica io tutta la parte di cui avete parlato dei consumatori l'ho fatta e l'ho fatta in un modo molto molto completo c'è un progaggetto di ricerca che ha portato avanti una relazione dei consumatori insieme a fede alimentari e alla grande distribuzione su questo l'abbiamo fatto e ho dato un contributo io mi riferivo a un'altra cosa che io faccio comunque diciamo di azione di volontariato perché i Lions in Italia hanno deciso di diciamo collaborare con perlomeno i Lions del Lazio di collaborare con il Banco Alimentare per distribuire e qui e a questo mi riferivo alle difficoltà che ci sono ci abbiamo messo la buona volontà ci abbiamo messo tutto e non dipende dalla legge questo questo dipende proprio dalla diciamo dall'indole italiana ma non lo so che cos'è che comunque abbiamo queste difficoltà di riuscire a distribuire queste eccedenze ma non come ripeto nonostante ci impegniamo facciamo del tutto la chiave lo dico non da parlamentare ma da ingegnere gestionale perché ogni tanto ritorna anche la vita precedente e il modello organizzativo nel momento in cui ci si siede per questa conferenza stampa può essere anche un suggerimento poi magari anche con chi si è impegnato in questi mesi possiamo anche trovare la chiave giusta per inserirci in un percorso bisogna sedersi attorno a un tavolo bisogna capire chi sono i propri interlocutori sul fronte della donazione come e con che forma organizzativa si può donare perché è vero che certe volte capita di ricevere in donazione un pallet un tir pieno di pallet di cioccolato e uno cosa deve fare? rinunciare a quella donazione perché non sia il modello organizzativo allora il modello organizzativo può essere come quello che hanno trovato alcuni enti del terzo settore usare le piattaforme informatiche la blockchain oppure avere un tavolo permanente tra soggetti del terzo settore dove questi beni li si distribuisce io ti do un po' di cioccolato tu mi dai le albicocche rispondiamo insieme a quel bisogno sociale il tema non è più la legge non ci sono più scuse da quel punto di vista il tema è crescere insieme su un modello organizzativo che usa la legge che usa le possibilità che la legge ha dato per fare le cose la volontà c'è perché vi assicuro che nel nostro paese la volontà c'è bisogna rimuovere soltanto alcuni ostacoli soprattutto nei soggetti più piccoli che sono legati alla paura a non sapere cosa si può fare alla paura banalmente di essere sanzionati prima succedeva quando non si sapeva che cosa si poteva effettivamente fare oggi questo è risolto e quindi forse insieme dobbiamo fare un percorso di educazione e di informazione sulle opportunità della legge quindi assolutamente positiva questa voglia di fare di mettersi in gioco cerchiamo di capire questa voglia come canalizzarla perché l'ultimo aspetto che la legge ha inserito è questo l'eccedenza non si genera quando ha voglia lei si genera ogni giorno in modo continuativo non prevedibile e quindi deve diventare un fatto normale come nelle politiche aziendali cioè ci sono i prodotti che assumono il percorso di andare a rifiuto altri che vengono venduti la donazione o il recupero o le misure di prevenzione devono entrare in modo normale nelle politiche aziendali per un'azienda come Metro è più semplice per un piccolo ristoratore o per chi vende i propri prodotti nel mercato ortofrutticolo di quartiere è più complesso quindi è per questo che forse servono dei progetti di rete dove si portano tutti su quel percorso però noi l'abbiamo iniziato sì se posso la parola magica è modello organizzativo secondo me cioè è fondamentale oggi poi la digitalizzazione ci aiuterà sicuramente è un abilitatore importante darà velocità però è fondamentale come nelle aziende ci sono modelli organizzativi per cercare di capire come donare in che modo con quali strumenti farlo anche a valle perché solo così io sono d'accordo che la legge è già come dire un un fluidificatore importante il limite dei 15 mila euro è già può facilitare molto io leggendo un po' sono rimasto sorpreso anche di come riesce ad inquadrare e a mettere insieme tanti bisogni è chiaro che poi bisogna fare e per fare bisogna mettere un po' di scientificità anche nell'organizzazione e questo le aziende lo insegnano io vivendo in un'azienda che ogni giorno cerca di mettere in fila tutto e far rientrare all'interno di un modello organizzativo di un processo che sia sostenibile sempre beh questo è il lavoro poi che va costruito e della strada insomma forse il professor Irado voleva vedere prima direi il tempo è strettissimo forse solo una battuta chi è beneficiario di una donazione va trattato come se fosse un consumatore cioè è un mercato anche quello che ha la sua domanda le sue periodicità e deve essere deve trovare risposte in un mix di prodotti eccetera quindi non è non è semplicemente perché un'eccedenza può essere donata che trova facilmente la sua collocazione va pianificato anche quello grazie